Annunciato e probabilmente già scontato dai mercati, il taglio dei tassi della BCE è arrivato a inizio mese, con validità dal 12 giugno. Ma è un taglio dal sapore particolare, tanto che alcuni osservatori l'hanno definito un taglio da falco, riferendosi alle opposte visioni tra falchi e colombe che dibattono in Europa. Sì, perché è un taglio di portata modesta, 25 punti base, a cui molto probabilmente non faranno seguito altri tagli nel breve periodo. Insomma, l'attenzione ai dati resta elevata. In BCE ci si muove giorno per giorno sulla base dei numeri e se da un lato le previsioni di crescita sono state leggermente riviste a rialzo, dall'altro si prevede che l'inflazione non torni al 2% prima del 2026. Leggi l'articolo per saperne di più.